Vi prego, sentitevi liberi di esprimervi. In queste sedute vogliamo che voi vi sentiate rilassati e disinibiti. Ecco, io lavoravo in una compagnia di assicurazioni. Ero il più giovane vicepresidente di tutta la storia della compagnia. Quel lavoro era tutto... la mia vita. Un lunedì mattina mi alzo e non riesco a uscire di casa. La porta era inchiavata? No, non potevo affrontare quello che mi aspettava lì fuori. Era un uomone? No, Homer. Dave soffre di agorafobia, la paura degli spazi aperti e delle folle. Ti prego, Dave, continuo. Grazie. Comunque quel giorno sapevo che non sarei riuscito a guidare fino all'ufficio. Non avevi più benzina? Sì, mitico. Cara signora Simpson, mi dispiace, ma suo marito soffre di un complesso di persecuzione, grossa paranoia e di ostilità vescicale. Se gli parlasse solo cinque minuti senza menzionare Bart, si renderebbe conto di quanto è sano di mente. Vuol dire che esiste davvero un Bart? Oddio, esiste un Bart. Pancai. Signor Simpson, c'è una visita per lei? No! Prego. Marge! Oh, papino! Dopo aver parlato con sua moglie, riteniamo che lei non rappresenti una minaccia per se stesso, né per gli altri. Non ho cosa più lusindiera che qualcuno mi abbia mai detto. Posso averlo per iscritto, per favore? Certamente. Non posso. Mmm...